Siamo arrivati allo stand della Val d'Arzino, questo è uno stand molto particolare, è uno stand di veramente un grandissimo gruppo e stiamo parlando adesso con il chef della Proloco della Val d'Arzino, Luciano. Ecco io Luciano ti chiedo se ci puoi spiegare i piatti che hai presentato quest'anno. Va bene, cominciamo con il primo, il primo sono delle lasagne fatte con un sugo di pezzata rossa e del formaggio della latteria di Pradis, questo è il primo. Il secondo è una salsiccia cotta nel vino con una crema di formaggio asino, che è il nostro formaggio, formaggio salato e con dei crostini di pane. Il dolce invece è un gelato lo zabaglione con dell'uva cotta sempre nel vino e caramellata, caramellata con del zucchero e del miele. Ecco questi sono un po' i nostri tre piatti, tra l'altro gli abbiamo dato dei nomi un po' particolari, perché il primo piatto è la rengue, il secondo è l'alleluia, e il terzo piatto è il dolce, la dolciuia. Così abbiamo voluto dare un tocco un po' particolare sui nostri piatti. Ecco noi vogliamo dire questo, che la Val d'Arzino ogni anno comunque dà dei tocchi particolari ai piatti e ogni anno fa dei piatti tradizionali ma sempre differenti. Luciano a presto e grazie. Grazie a voi.